Si inizia subito, lo stai sempre Smash, oh no, Dowling City Si comincia, Classic Chairo, Classic Chairo Prova il Dowling Smash, lo riprova e lo connette Questa spike subito, autografimi tutto, subito Spike a 30% per morire pianta No, è a 30% Ok, però si stava riscattando Uno stagione, uno stagione, stava in Vila Blast Spike a tutta la CD e provato Smash, che non prende la stock Mi tira un'altra di lì addosso Alla fine, è un evento, non è un evento È comunque un altro, è un torneo offline di questi tempi Forza Omega Però io nel cuore un po' me la sento, devi farle Vince la verità e soprattutto vince lo sport Il B prende la stock Prova la grab con una spot dodge e corrisponde con un now smash Da un grab, connette sempre in fair Lascia attack, tiene in centro stage Omega, prende la Chairo in mano, la tira in aria Mi sa in B per essere neutro il B Vuole posizionare il Gairo, copre sempre con questo back air Una roba super Un grade davvero indifferente Non immittrazione Non immittrazione Come devo dire Come ho fatto quella mossa Come ho fatto quella mossa Attacca con questo continuo, con questo down did Io volevo fare la spagnolona e corrisponde con un... Ancora Ancora È davvero goloso The Ranger Oh ecco G Provava Oh eccolo Ha coperto il saldo sempre con il back air Uno, The Angel Omega 0 Siamo in GF signori Che sicuramente si trova il favorito sul... sul match Comunque dobbiamo dire 5-6, un Dino Vanillo Se l'hai giocato molto bene, ci so quanto, quanto sta Sì, base percentuale 50, 40 Non ho visto il pitch dello stage, hanno fatto sicuramente in fretta E si passa con il secondo Secondo me Intanto guardo le statistiche del QC di Raffo E' così Siamo partiti Small Battlefield Neutral mode in G-Stand Si parte come un gioco ma non chiude nulla Prova il Nair Ancora il Nair Stavolta chiude e entra lì il B-Rob E' uno scambio di palle e trottore Oh no, questo... I don't know Sicuramente l'ha salvato, a parer mio E' molto interessante Uuuuuh La Super Armor l'ha praticamente salvato da questa side B Prova il Strap con Neutral B Lo prende l'ultimo hit del side B E' Lo porta off stage con un back air Angelo chiude sempre le opzioni con back air L'avevo visto molto Mi dà un flaming chat Tra due player Che si vengano forti Continua questo Nair E' sempre 3 stock Un leggero vantaggio per Omega 3 pin in 50 secondi World World Record Prova ancora side B E' super goloso Lo sbatte dietro Prova il Down B E strappa con Neutral B La Gyro Wall lo interrompe Voleva connettere E l'ha connessa Gyro Wall in side B Sempre questa Spike Che attende E prende la stop L'ha letto Buonissima Ligio di Angelo Con questo side B Se la sende e lo vuole Rappare Accentere Il perfettore O non gioco Tiene lo stallo Tiene lo stallo Sempre il Gyro Interrompe Il setup Con il Neutral B Il chimi Del HBR Riflesce Al Neutral B Ma Shielda il boost E con calma Tira 1 up smash Prende la stock Da un B-Rand I giorni in cui Comorata Da un B-Rand Mi taglierò lo scherzo. Situazione abbastanza even, percentuale quasi identica. Volevo provare a grabbare il fondino a installarlo con questi ferra. E' un bellissimo rientro che deve sempre mix a fare. Sta andando segno, lo prende sulla linea dello stage. Usa tutta la pentina per andare alto. Prova e tira un up su una ciotola stuola. Down B, trova sempre con il down B, ci stalla forte. Buonissima recovery, sempre sul mix up e guadagna assolutamente il controllo dell'edge. Il combo breaker del natural B, prende la stock. Vantaggio di Omega, anche se deve mantenere molto la calma in kill percento di vari morsi di rock. Il smash non connette. E' andato troppo... E' un po' i frame che si abbassano. I ragazzi a casa non mi avrebbero perduto. Senti, comunque Angelo deve trovare e vuole trovare la stock. Down Throw, come era sempre il vero. E' troppo grosso questo robot. Prova un po' di impanicata la doggio che porta sull'1-1 Dead Angel e Omega. 52 di vantaggio per il player B. Molto even. Non vediamo come si deromberà questo neutral. Pro, ma c'è un trade assurdo ancora. Down T, down T, cosa più forte del mondo. Let's go, c'è un altro Piranha Plant. Benvenuto. E vince Omega. Ho abbassato lo sguardo e ha preso la stock, signori. Esatto. Va a risolvere questa divisione e continuo io. Andiamo subito a modificare il focio. Dead Angel 1-1. GF. Winnerside per Dead Angel. Adesso ce lo scriviamo che ci fa pure più professionale. Chi ha fumitato? Nessuno. Ok. Ve lo dico, ragazzi, non ha vinto nessuno. No, ma sì. No, no. Chi ha? 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 E' Thinking Bune. Allora. Ma è ormai... Quanto?! eh eu hus компании? D 3000!! A Theyb, qualcuno dice... Si ha 3000€! Ah 2000$ vuoi?! Nî tout... Un attimo ci sono ma a sto scioccato, per il costo del PC di Raffo! Non perde un frame. Se ricomincia 16% parte di End two... Siamo stati su Smashville, Trade, sempre con Beats, la chiamano Piantatrade. Molto even, 107 per Omega, vediamo chi distriggerà meglio in questo pick. Da un draw che non connette in AppSmash, bravissimo, aspetta che non si prende nessuna delle lead che ha provato a fare. AppSmash che non trova la kill. Qua si trova sempre, credo che questa è la stop, sì. Sì, ormai si è adattato, perché sul side B c'è solo una grande risposta. Trova ancora il side B, dovrebbe fare meno side B. Eh, glielo consigliano anche in chat prima. Vediamo come si si rende racconto. Da un draw, non connette, forse è la rage, forse è la rage esagerata. Esagerata. Bam, neutral B connette in fair, cose brutte. Il neutral B. Sponiatoso. Buono, buono, assolutamente. Buon vantaggio. The Ranger deve trovare assolutamente la stock. Oh, prende la stock con questo neutral B. E si forza sul 3, 1, 158 per Omega. E non si fa spagare, però lo prende, lo cattura con la sua side B. Sì, pare che se lo mangia, Strik, pare che lo mangia l'avversario quando lo prende. Bam! Attenzione, è piaciuto. Fatti meseva per fare Omega, lo spam, no, no, smette. Gairo, Gairo non lo fa, è strappare come vorrebbe. Gli la ritira, lo shield a B che connette in fair, buonissimo. Ecco il ner di Rob che si fa sentire. Dash in due fair. Voleva provare, voleva provare la spike. Ormai è diventato super goloso, prima ne ha connesso più una. Omega, bravissimo, mi sa fare la rosa. Esatto. Ah, mi avevo l'assunto. 87, 86, una stop intera di vantaggio per Omega. Come... Uff, prende la stop con questo up smash, credi sì. Non pensavo che l'avrebbe chiamato. Quasi lo shield break, incredibile. Fade into fair, fade into fair. Bam, ne è il più veloce della storia. Che un tre da due centimetri, se l'ha vista brutta. 112 a 26, sta sotto veleno, oh mio Dio. Bellissima Linder. Veramente era rimasto nulla. Appunto, puntualizza Matteo, dopo 27 spike ha capito che deve mixappare. E sta, ci sta ben riuscendo. 26, il comeback potrebbe essere dietro l'angolo, però... Qui, con il primo anno, la grappa. Continua l'ex trapping. Provo a fare la grappa, però connesso di là. L'attenzione è forte in tutti e due i player, è tangibile. Boom, con B, fuori stage. Bravissimo a usarlo. E andiamo subito a modificare. 2 a 1 per Omega. Punta al reset. Lo vedremo nel prossimo game. E si va. C'è pure Fizzbonds, benvenuto. Hermozzi tu. E si va. Ora stanno piccando e vedremo in che stage andrà. Bella gali, ci sono proprio tutti oggi in questa giace. Gratissimi tutti a seguire. Torna offline. Non ho visto nello stage. Stavo controllando sui settings. Non nemmeno io si c'erano. Quando veniamo subito, ho appena visto. E' sempre Smashville. E' sempre Smashville. Vado, dice Dio, cane. Non è solo conferma. 35, veramente un... Una mossa. Continua. Continua. 60, 35, un 70, 35. Bam, jump rock. E' sempre, è sempre qui. Lascia attacca, che comunque è molto rapido quello di Bianca. Bam, Gairo che dice sempre la sua. Up till, bravo mix up. Non c'è un video, ma non era atterrato. Voleva davvero connettere. In mente, Telenjel ha molte opzioni che prova a realizzare. Davvero, quella via, Silbo Cato, credo. Rimane sempre la pallina. 140, 142, è sempre uno sputo, credo che l'up troppo. Up troppo. E la zilla. Prende la stop. Ora Omega punterà sicuramente a fare qualche danno gratis, ma il 22 lo prende solo con il veleno. Ok, questi doppio ferro. Bam, bam. Combo più brutta della storia. E' sempre bruci. Sì, quasi, non lo so. E' davvero arrivato in blast. Sempre un trapping con la palla che la schizzava in una verità assurda. Prende la stock con un up smash sempre fuori allo scudo. E' bello grosso, Rob. Ma che Omega non fa gli errori. Vuole il resetto. Punta il resetto, Omega. Da quando ho perso contro l'anteloprima, sembrava cambiare il mondo. Da un troppo che porterà nel zero. Già lo sappiamo, già lo sappiamo. Oh mio Dio. 89, che lead Omega. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Voleva, voleva. Non prende la stock. 80, è bello pesante. Adesso la prende neanche ora. No, perché... Continua a spavare side B. Opzioni, un po' di panic. Ok, ci prova sempre con questo ribalzo of smash. Edge trapping di neutral B. Prova se da pari con il down smash. Ah, perché non connessi, signori? La rage? Non ci credo, non lo so. Possibile. Back throw, lo metto in poi. Edge guard, in 133. Le soldi stanno andando. Eccolo. Un altro neutral B. Potrebbe prendere la stock e andare sul resetto, signori. Eccolo, in 3-up free. Da un smash, signori. Si porta tutto sul resetto. True final. True final. Gang. Let's go. Ok, true final. E a lei nel drum. E vabbè, ok, facciamo il professional, non ci facciamo magari nulla. E comunque, super neo, la cosa che mi ha servito di più, ho imparato a usare un po' OBS e me carica. Come cosa. Si, partita bomba. Tanto siamo in perfetto raro. Si, si, andate. Potete andare tanto. Attenzione, se la suda. Se la sta a sudare. Un reset ben guadagnato, direi. E' un super crossciato. Eccolo. Setappino. Allora, facciamo pure il spot. Guarda qui. Non vuoi? Oh, su. Buongiorno. 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 Buongiorno, è stato un piacere. Un po' i player ci abbandonano, sembri meno, a vedere questa grande, anzi, true final. Con reset di Omega. Omega. Dai, Omega ha fatto una scena cedera. Si, si, si. Lo vedo già fa fuori. E' un po' per questo primo pan della true final, ricordiamo, con reset. Omega ce l'ha. Ok, potremmo anche non dirlo, però sicuramente sarà cose da adolescenti, ecco. classici di dolori adolescenti. No, no, mi ha detto che era teso. Appunto, sicuramente è arrivato teso. Comunque facciamo un applauso a Raffo che ci ha prestato la postazione per lo stream. E' arrivato teso, un buonissimo posizionamento. Sì, ma poi non capisco perché è teso, è teso, è teso, è teso, è teso. E' un po' di tensione ci sta comunque, appunto ho fatto un buonissimo torneo, è andato il loser final che si è andato a scambiare contro Omega. Quindi, applausi pure per Raffo. Su, ok, il kick, il big secret, il kick in stream. Non va sull'assistente del tipo che ci sia. Raffo destro. Sì. Raffo destro. Let's go. Scusate, death lead, sì. Non è poi è quantità lo schieraccia. Lead, assurdo. Si parte con questa true final. Il game si inizia su Town in City. Grab, suito, check e connette. Trovo con l'asfalto, ma trofei. Non è mai approvato, è pronto, pronto per non avere niente. Guardalo! E' strappa, refrescia col side B. Era pronto, era pronto. L'ha speciato abbastanza Raffo per non prendersi il Down B. Ok, continua. Hai con questo tilt. Comunque la partita è molto calma. I due giocatori stanno spiegando un po'. Trova sempre questo Down B che è veramente abile a giocare. Side B che... Ok, non la posiziona fino alla fine. Questo Rob non lo spaventa più come in Winner Final. Continuiamo questo Edge Trap che avviene sempre con il rientro di Rob con side B che refrescia la setappata di Neutral B. Let's go, qui si fanno tutti i mega stream. Let's go in the chat. Trapi Neutral B classici, scende di Neurob. Down B che non può avvicinare l'avversario. Prova la gyro. Up smash tirato un po' a caso. Down smash, prova la rebound di noi. BAM, a finire l'è andato. O meglio non bruciarti i neuroni. Portami un bicchiere. C'è stata pure la vera in questo torneo. Grandissimi signori. Il Winner, o meglio, stava studiando. Può è sanghi. Può è sanghi. Solo lui sa la vera risposta. E sarà la vera alla fine di questi tre game. Voleva fare roba, lì Angelo studia un po'. Sì, la pure... Pensavo, tentavo il back throw, ma ci va sicuro con up throw. Oddio, solo per il jump. Solo per il jump. Ok, qui ci sono dei hurli che arrivano fino alla stream. Per me è perché è qui. Ok, questo edge guard, cioè questo edge trapper è veramente close. Allora, Omega si è preso la refreshata con il site B, salutando. Pum, non prende la spike. Ha cominciato molto adattarsi. Mi è più angelo, sì, vogliamo anche il tipo. E' qui già. Ma no, quella B neutralizza la chairo. Io sai cosa stavo a lei? Cioè, se non è spiegato. Offline il gioblock avrebbe funzionato. Che peccato, mettiamo online. Fix online, please. Prova la spike che ancora... Uh, bel setup per il back air. Bam, lo prende subito. La stock. Con una smash. Ma, ma, veleno, veleno. 30 gradi, 32. 32. C'è lo spot. Dai, anche i 40. No, ciao. Bam, questo combo breaker è sempre uno dei più forti del gioco. Già ero in testa. Man 3 da downvink. Bam, bam. Build classicone. Downvink per edge strappare. B classicone. E site B di Angelo. Pure questa. Un classico. Fatti una sega per la tipa Romelaga. Tormentone dell'anno. C'è scritto Ghandi. Non c'è, abbiamo il bot più cattivo della storia. Setup, 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 madonna. La deck. Bellissimo setup. Uh, non killla, non killla, signori. Non killla. L'avrebbe... Con questo sì. Ok, andiamo subito a... Ok, ragazzi. La spagnola. La tirate tante. È un fan, è un fan della spagnola. Diciamo che Ghandi ha imbastito molto la scombia. Spagnolato. Pianta che ciona, ma non è abbastanza. Veronica. Let's go, let's go. Con il picking. La mascherina comincia a segarli le orecchie. Loris è riuscito a passare l'alto. Questa sessione non è niente. Faccio una sega per me roba storia. Citazioni. Stanno selappando. Mi perdo sempre il picking dello stage. Mi begnando qui. Mi leggo da un po' la chat. Allora tu, allora lei. Che l'ho da domanda, allora lei. Ok, tu facciamo un stage con due. Ok, prova la connessione sui rinunciato. Soprano qua. Quindi la connessione sui rinunciato. Neutral per il charge B. Bandage che lo porta in bandage. Rega, non sprinare da. No, non di gold. Prima di tutto l'alto. Comentiamo la pandemia. La mascherina, guarda. Ce l'ha sempre su qui. Oh mio Dio, questo trap che con il back here va a buon fine. Prende la stocca con un 42%. Vantaggio. Setup bellissimo. B in 2 jab. Continua con questo dash. Charge B lo prende. Personali importanti. Una stocca intera di vantaggio per TheDangel. C'è una stocca intera. Deve prendere la stocca in maniera solida. Ok. Una curiosità. Amar verso frame la line. Scrivetemelo. Non c'è mai visto. Gagliere frame. Lando si continua ad avvantaggio pienamente di TheDangel. Sempre una stocca di vantaggio. Buono. Il down smash lo porta off stage. Mette la cyro. Bam. Gli leggerà la roll. E va di up smash. Prende la. Bam bam bam. Madonna. Un 44 lead. Pienissimo. Deve subito riprendere i... Per i capelli di questa partita. Eccolo. Ok. Non ha preso la stop. Però il setup c'era. C'è c'è la segreta. Sicuramente Angelo sa quello che fa. Mette la rotellina. Classicone. Ok. Bam bam. Merit. Dociò. Deve assolutamente. Prende una stop. Però la situazione non è delle migliori. Praticamente il secondo game è in mano a The Danger. Attenzione. Bam. Cioè. Non incognette questo... Già block. Anche prima se l'è fatto sfuggire. Avrebbe messo una buonissima. Oh mio dio. Cazzo. Questa stock presa. Tutta rage. Tutta rage. E' veramente il range di qualunque attacco. Anche un Nair. Un personaggio pesante come Pianda. E' la Roma con il side day. E qui si va sul 2 a 0. Potrebbe essere l'ultimo game di entrambi. Con vincitore di... Si. Però vincitore di... The Danger. Siamo a Rassus. E si va. Cristo, Anzio, non parmi scarmato. La ciocca. La prestazione di Omeda, nonostante sia stato svantaggio, è stato... Si. Con l'ultima catch di Downby, che si tirava fuori sempre delle belle. Abreccio, è stop. Omeda fa sì. Vuole più concentrazione, vediamo il picking dello stage. Vanno sull'hylant. Omeda non fa. Speravo fortuna di spiegare un'altra recopi. E' sempre molto... Secondo me è un modo per non far si spagnare. E' quello che Angelo lo legge e si... Si scopre, va bene, non è che si legge. Mi piace io e... C'è un po' più tempo di like. E' parte subito, comunque sta. Vinto gyro. Vanno, vanno, vinto. Vanno davvero subito. Robber Harrell, un vantaggio di 50 da partire di The Rangers. Dovrebbe essere l'ultimo game, ripetiamolo. Let's go. E' un grande, molto resistente. Fa montato il foglio. 97. La roll, vai sulla smash. Omeda devi cominciare a rasonare e adattarsi subito. Questo salto non ci doveva essere. E' un po' di veneno. Si stanno con il Neon3B. Trovo, però ci va anche da passare. Ciao. Prima a perdere di Angelo, no, è una tirata di Alba. Infatti, una tirata di Alba, trovo, mi fa pochi a perdere di Alba. Sempre lì, eh. Non si posiziona bene il caio. Bambam, bambam, spiglioli. Non si posiziona bene il caio. Mamma, abriendo la stock con il letro e B, una stock e 116 g di vantaggio, due stock potevo dire, mamma, con Netter, già lo sappiamo, vediamo il futuro, come le compo sono frutti. Prova, avrà recuperato il modro, la pera, la pera, la pera, la pera, la pera è piuttosto secca. Oh mio Dio, che spot dodge, preciso, avrebbe preso la stock, lead di Down Smash, prova a ritrare The Danger, lo buttisce con il nero, ok, avrebbe preso, uh, sempre questa lead di Down Smash se sotto veleno, buonissimo, la percentuale, la percentuale sta andando, buonissimo, è la kill, la kill è quasi sicura, 180, mamma, prende la stock, 0-0 signori. La kill, maledizione, lo streamer, ha a field in appesa, vuol dire, non è niente male. Lead goal, lo colpisce il, inoltre il beat, comincio a vedere l'arciura, cazzo, nel tempo in cui ci sarà il coso, mi ando a prendere un bicchiere. Ci manda per certo di vantaggio perché l'Angel, un po', sì, ci stanno pensando le mosse da fare. L'attenzione sicuramente l'ha anche Angelo perché appunto vuole chiudere la true final con questo game, senza dergiversari in altre partite. Si è qui, connette, dopo lo scudo, lo elegge tutto. Omega, oh no, e non la fa finire così, Omega. Non la fa finire così, oh mio Dio, davvero pesante. Questa roba davvero non la fa finire così, deve andare fuori in gola. Oh sì, sempre lui, sempre lui, gli piace. Molto potentissimo, prena fortissimo, quella cazzo è pesante. Oh mio Dio, che cazzo di spot dodge, signori! La riapre, la riapre, non faccio capping, porca pittana! Ok. Ci siamo un attimo fomentati, signori, perché qui davvero vado a prendere al volo un bicchiere. E' il torno. Un attimo di tergiversiamo, caricatevi ragazzi, che qui il match è ancora lungo, ancora lungo, uno spot dodge up smash, signori. Qui, ve lo dico, una cosa tra me e voi, qui c'è un po' di sale da partite, non lo facciamo sapere a nessuno, a parte che siamo in diretta, però c'è un po' di sale. Ci sta, ci sta! Le bestemmie volano, The Angel 2 Omega 1 True Final ragazzi, Civita 3-4. Davvero, per forza inerzio, abbiamo fatto questo torneo, ci mancava l'ambiente dell'offline e i non-missimboot. stanno un attimo pensando sullo stage speaking. Ok, ci distorgiamo assolutamente, Macchi San Viu è un canale su family friendly, assoluto, e ci distorgiamo da tutto quello che ha detto. San Patozzo, EPS, l'aria comincia a farsi pesante, dentro casa di ex, sempre meno ciceno, e sempre più CO2 nell'aria. ragazzi, come voi ragazzi ci stanno pensando, stiamo aspettando che si risolva il problema tecnico di un intruso, tra proprio il fratello VX. ragazzi, adesso ci sarà un match da Inception con Castery Play. Eh sì, ma guarda l'ultimo. Poi, sai, perché un attimo è arrivato il fratello VX a vedere la partita e l'ha un po' distratto, come fece Jordan a quel famoso sup, per chi c'era, gera. Anzi, la presenza di Jordan. Non da alcune vestibili, ragazzi, però, parti, parti. Ecco. Sì, ancora un attimo. Sì, ma guarda. Il fratello. Il porco Dio per Loris. Esatto. Un po' di problemi tecnici, non c'è problema. Adesso, ci puoi andare, da. Che vuoi fare? Ci puoi restartare? E lui è messo in mezzo allo schermo. Eh vabbè. per me ci sta fare un button check un po' triggerato perché un attimo è arrivato il fratello d'ex a vedere la partita non entrò un mese e quindi un attimo gli ha piaciuto la scaglionata ottimo let's go, si stanno per i venti il numero 8, non facciamo fai a voi Disney quindi lì mi fai sbagliare oggi abbiamo la zona con generia sicillata abbiamo sicillato c'è di raga adesso stanno a fare il picking è sceso un po' di sale e si va mettiamo un po' di zucchero nel caso che poi Angelo prenderebbe un altro game è stata una bella tv siamo sul 30 spettatori incredibile qui sul canale della macchia c'è un più esistente la sembra town in city la gamma è qui è qui proprio prima volta perché volevano il full screen ma come andiamo questo come potrebbe essere uno o ben ultimo game di questa fantastica giornata il primo maggio neodrad leggero vantaggio per omega che è entrata con il down b bam prova 6b ma non ce la fai il down b arriva prima bom prende la stocca con i gestuti down smash incredibile un po' appunto un po' appunto saranno quegli game di prima da deve solo raffreddare i nervi bam un jab davvero l'ultimo mash a forte bam bam bom e l'ho fatto terra una pallina di in più 20 volevo dire scusate bam questo down b che è davvero trollina trollucchio bam questo down b che è davvero trollina trollucchio questo down b continua a stallare dopo dopo l'ho chiodo omega bam beckir beckir fastidio nero acera pomeriggio gairo l'ho chiodo la situazione pare sia capovolta uuu e lo copre mi dai subito le parole di bocca copre disney d'appunto beckir tre di assurdo gyro rob e neutral p neanche spike sempre carino questo mix up lo vedo un po' confuso si un po' trigger trigger se tuo fratello morirà questa sera già sappiamo il motivo oh 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 ci distruggiamo ci distruggiamo assoluto tanto non credo che i moderatori e tevic stanno qui oh mi gatti il dj ecco si devi assolutamente proteggere il fratello di me biax inizia a mettere le scarne non mi fa distruggere troppo mi stai fa sbragabili eeeh secondino bam dao smash il setup sei inventito il setup proprio che cosa ancora un po' il sale il ritornato al sale si continua si mette ultimo game best of five di true final ragazzi da bello abbiamo da tirare fino alle sette perché ci sentiva che fa il video come finisce ok ok lo faccio nfl lo faccio la facciamo questa cosetta che ha detto nfl la facciamo la facciamo se finisce nel modo la facciamo ok 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 un attimo di check un po' di check pausa bagno per omega 2 a 2 ragazzi ultimo game per forza di questo torneo incredibile poi poi atti questa attenzione quando sta capo questo pc insomma guarda guarda che roba il video è un po' di 4 minuti adesso qui qui giri b qui non cazzo di a un attimo che stiamo a andare in palazzo dovevo le dinamiche del video e quando l'avrà poi hai un po' di spam chat io vedo che ma ci vedo l'angelo voglio la prima antipagno si il massimo mi vedo io è un bianna main sbetta 29 sono stati messaggi da un moderatore ops è stato un po' moddato Matteo è un po' di sal il sal sta crescendo ragazzi ci potrebbe stare davvero un macello dentro questo 40 metri quadri stiamo aspettando il primo metro di 3 allen come andiamo con quest'ultimo game ok ok dai qui abbiamo più di 30 persone collegate tutte su marchion view grandissima non è il nostro mazzetto sì sì abbiamo un sacco di lezione tanti 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 altrett tanti 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 x tanti La beer trash Esatto esatto Matteo è andato proprio così Ultimo game Non pensavo che si andava a spingere Fino a un reset through final Best of five Bello 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 Sì facciamo direttamente Al secondo in cui finisce Ragazzi siamo aperti Ma si può fare un bet Allungeremo la fine C'è sta l'affinazione C'è la tienda se può sapare E poi Aspetta in chat Un modder oppure Qualcuno che lo sa Let's go Allungeremo la fine Allungeremo la fine E' un'altra cosa E' un bel match un bel match, ottima vita a tutti e due, ben deteccio, assurdo, assurdo e let's go, si va, con questo numero si è un Pokémon Stadium, dove le combo escono bene, cazzo e si va, si va ragazzi, ultimo game di questa partita facciamolo in chat il bet ragazzi, ognuno commenta Ghibit secondo voi, e si passa con Uptro la filastrocca è sempre quella nella chat bambam, da un concluso, forte, fortissimo, da un tilt, scende di nero dipenda, bambam, vale il trade, da un B, la sua mossa preferita sicuramente boom, andiamo a tra il D, end of stage ci pensa, non ho pensato, alla fine ha voluto, ha pelinato no, ma quante volte l'ha salvato dai via, no, romega parecchio, parecchio ok, bellissimo nero si continua abbastanza il livello, questo match appena, lo dico, partiva quasi la stock la riprende, la riprende, la riprende, la riprende, la riprende, la riprende con la stessa mossa dai, dai, non vuole tanta strada il match si potrebbe, la caposciare, altre tre, quattro, cinque volte bam, bam, bam quando questo, fare una bolizza sulla vita ragazzi, è possibile, potrebbe scoppiare tutto qua stalla forte, Angelo moving ok si, è, 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 adesso da me ne so si, d'angelo esatto, la versione è pato, uno strillo lo sentiamo in entrambi i casi si continua, la situazione abbastanza even si scambiano percentuali quasi identiche lo sguardo che l'accia dei giocatori davvero a per capitalizzare lo stage grab molto largo con l'acqua carica il veleno glielo spinge fino all'asse oh si vuol dire tira il veleno non corre un pochetto a questo mi piace tanto e prende la stock neutral b signori si continua la roll conosceva quel down b e la loggia portando in situazione di vantaggio prova la cosa continua di up smash let's go prende non lo spaga signori la spaga tra gratis neanche il side b ce la fa interno bellissimo recovery da parte di angelo e qui che dove la stock è gratis eh lo vediamo piuttosto true con tutte le opzioni 48% di vantaggio per l'ultime stock di entrambi signori mi sta piaciando forse si molto 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 bella davvero 48% come si andrà attenzione sto malissimo lo scudo si stiamo vigendo la fine ragazzi la fine è sempre più vicina signori continuo con questo scambio di neutral b side b neutral b sullo scudo che non mette parecchio stall attenzione situazione molto senza ho il fiedone per loro davvero castane tutto questi quasi 10 match sono stati davvero lunghi siamo stupati no stupati non si scopa di giocare a smash ma siamo stanchi siamo stanchi soprattutto anche i player saranno stanchi 124 90 signori sempre sempre pronto potrebbe finire un momento o l'altro fa nel trade sempre trade la kill non kill non kill signori la situazione brutta per omega e ce la fa rientrare con un giusto scusate il silenzio ma è davvero una situazione molto even 152 124 davvero un qualsiasi mosse di entrambi potrebbe killare l'avversario missa la perkara veramente oh mio dio oh mio dio e vince così è sicuro è sicuro è sicuro un applausi per l'omega